Rocchetta al Volturno, piazza San Domenico, il campanile della chiesa a Tigua ha appena segnato le 18. Proprio a quest'ora sarebbe dovuto iniziare il rito della benedizione degli animali da parte del patriarca della chiesa vetero cattolica. Ebbene, a parte lo stesso patriarca che fosse, vedete alle mie spalle, intervistato da colleghi, qui in piazza al momento non c'è nessuno. Mentre Maurizio Raimondo, patriarca della chiesa scismatica, una dopo l'altra parla ai microfoni di tutte le televisioni regionali, il suo abito talare spicca nella piazza che, deserta, sembra ancora più grande. A quanto pare l'ammonimento di Monsignor Cibotti, affisso da giorni all'interno delle chiese della diocesi di Sernia, e sul colonnato della chiesa del paese accolto nel segno. I fedeli che prenderanno parte alla cerimonia rischiano la scomunica, aveva scritto il vescovo. In realtà non si tratta di una minaccia, bensì di informare, far capire. Aveva precisato Cibotti anche perché, e noi lo abbiamo visto recandoci sul posto, in tanti, pur non intenzionati a prendere parte al contestato rito, hanno visto nell'ammonimento curiale una imposizione d'altri tempi. Lei ha raccotto l'appello della chiesa vetro-cattolica e qui per far benedire i suoi animali. Sì, so che c'è questo evento, mi fa piacere, ci partecipo, però non vedo molti animali. E neanche molta gente, perché forse hanno paura della scomunica, tra virgolette, minacciata da Monsignor Cibotti. Questo non lo so, non mi interessa di questa cosa. Io sono qua per l'evento degli animaletti, poi il resto lo lascio a chi di competenza. Esternazione questa in linea con quanto detto a microfoni spenti dai pochissimi altri lì convenuti con animale da compagnia al guinzaio. Il patriarca, dicevamo, non è un prete cattolico, è sposato e ha una figlia. La possibilità per i preti di contrarre matrimonio è solo uno degli aspetti che differenziano quella vetro-cattolica apostolica, Fidelitas, dalla chiesa cattolica. Noi come chiesa vetro-cattolica ci siamo divisi, con il concilio Vaticano I, appartenenti alla chiesa di Roma, sull'invalibilità del Papa e su alcuni dogmi. A me è dispiaciuto tanto che il signor Cibotti, lo chiamo signore perché? Perché lui ha detto pseudo-patriarca. Io sono patriarca nominato da un sinodo, dichiarato negli organi di competenza, negli enti, nei ministeri. Quindi la mia figura non è abusiva o tantomeno siamo una chiesa autocefala. Noi abbiamo una storia. Don François è andato via. Non è che lei sta cercando di far cambiare parrocchia ai fedeli di Rocchetta al Volturno? Assolutamente no. Io ho un bellissimo rapporto avuto con Don François e sono stato uno di quelli che prima si è dispiaciuto della mancanza di Don François. Pure perché il nostro essere presente in una comunità è più a livello sociale. Io sono 25 anni che seguo comunità di accoglienza, recupero, rinserimento sociale. A me la liturgia è importante ma va in secondo ordine. Ecco, patriarca, fin qui, guardando la piazza, il suo appello ha fatto pochi proseliti. Parlare di scomuniche in un paese di persone genuine ha suscitato paura, ha suscitato paura. Però a me questo non importa. Quello che importa è che io sono qui a testimoniare il mio credo e a fare quello che faremo anche con poche persone. Qualcuna la vediamo. Sì, ma ci sono... Allora, le guardi, Gesù poteva scegliere 100, 200, ne ha scelto i 12. Non è la quantità, ma è la qualità. Grazie.